Buonasera a tutti e ben ritrovati la social tv il salotto della Liberia Bocca ricostruire senza sosta la speranza una manifestazione è iniziata il quattordici di settembre prosegue tutto il duemila e ventuno da domenica a giovedì con cinque appuntamenti fissi settimanali e tantissimi eventi fuori programma siamo a una media ormai da gennaio di tre barra quattro incontri al giorno insomma la fatica è tanta il tempo è eh tantissimo ma eh la voglia di incontrare di dialogare con gli ospiti della social tv è davvero inesauribile sono qui in compagnia del mio amico ormai a distanza affortunato d'amico ciao fortunato ciao Giorgio sono tutti gli ascoltatori come va Milano allora dai facciamo un qualcosa di diverso in diretta non ho i link di collegamento so che poi tu vorrai farmi vedere migliaia di immagini quindi poi mandameli in chat privato ormai sono dirette veramente vissute e vere e quindi aspetto i link allora che ci porti oggi nella tua rubrica dynamic culture che tra l'altro adesso settimana prossima mi sa che avrà più di un incontro alla settimana esatto allora questa settimana intanto quest'oggi non useremo immagini perché il nostro ospite ha deciso che è meglio che che fare una checchierata forse in questo caso ho visto diciamo l'ampia possibilità di racconto che ci dava il nostro ospite e forse è meglio fare una checchierata una checchierata con con gianni biondillo che intanto ringrazio di essere qui con noi buongiorno finalmente oggi sono libero di non sbagliare ecco mettiamola qui perché poi tutte le volte che mando un'immagine c'è fortunato che mi pacchetta mi fa non è l'immagine giusta bene allora gianni biondillo perché gianni biondillo stiamo continuando anch'io della verità te lo spieghiamo gianni non preoccuparti stai lì che abbiamo preso un po come il simbolo di una rivoluzione milanese stiamo parlando tra le altre cose oltre che d'arte abbiamo iniziato a parlare d'arte di psicologia di antropologia un po di tutto con i nostri ospiti ma nell'ultimo periodo stiamo accelerando un pochino di più su quelli che sono i temi del territorio dell'architettura e quindi ci premeva moltissimo avere poi dei dei testimoni a gente che in qualche modo sta facendo delle riflessioni non soltanto oggi che c'è la crisi ma da un po di tempo per cui gianni sembravi il personaggio ideale per questo incontro perché non ti conosce dirò due proprio due brevissime cose sei autore di romanzi sei professore universitario hai avuto anche uno studio di progettazione di architettura ti occupi di letteratura a 360 gradi come si dice poi sei diventato sicuramente il simbolo di questa Milano che sta cambiando di questa Milano che parte appunto dalle periferie volevo chiederti ma col tuo interesse per l'architettura perché sei così tanto interessata all'architettura e alla scrittura insieme qual è stato il tuo percorso che in questi anni ti ha condotto a diventare così diciamo mediatico su una serie di canali di comunicazione accidenti partiamo subito è così a gamba ma il mio interesse per l'architettura è molto molto più subito di quello che sembra perché sono laureato in architettura perché sono un architetto sono diplomato in laureato in architettura al nostro politecnic come diceva Carlo Emilio Gadda lui era laureato in ingegneria insomma io in architettura però la solfa è sempre quella cioè la cultura politecnica mi mi appartiene in qualche modo la cultura politecnica che poi qualcosa che ha a che vedere non semplicemente con la tecnologia o appunto poi se l'architettura è questa curiosa disciplina che ti pone a metà strada sei in mezzo ai venti da una parte ci sono i tecnici dall'altra ci sono gli artisti non si riesce mai capire esattamente che che cos'è un architetto no è un po come io dico che come dire è un coordinatore di processi complessi cioè non si sa esattamente che cos'è non è quello che mette i mattoni uno sull'altro non non è neanche necessariamente uno che che disegna l'architettura in senso stretto è uno che comprende che esiste un processo complesso che deve essere in qualche modo coordinato un po come il regista in un film no il regista non è quello che scrive la sceneggiatura non è quello che fa la colonna sonora non è neanche quello che fa l'inquadratura no né il montaggio eppure eppure diventa l'autore del film non lo interpreta non fa niente di tutto questo è un coordinatore di processi complessi questa questa attitudine qualche modo che mi è stata insegnata che ho portato avanti anche nella professione vera e propria perché dico sempre che io sono tecnicamente un architetto sono iscritto all'ordine degli architetti pago l'inar cassa faccio tutte quelle cose noiosissime per avere i crediti formativi ogni anno per non per non uscire fuori dalla insomma per non ricevere nessun tipo di sanzione fa di me un architetto a tutti gli effetti anche se poi ne fate realtà la professione in senso stretto cioè il cantiere non lo frequento più da molto tempo perché perché la letteratura nel frattempo la scrittura mi ha rubato sempre più tempo e sempre più spazio in un certo senso ho proseguito la progettazione non più con con la matita ma con con la tastiera insomma scrivendo e progettare un libro anche quello in qualche modo una forma di progettazione perché se tu hai questa idea appunto che ti viene che ti hai incorporato della progettazione poi la puoi applicare dove vuoi non è un caso che guarda che la maggior parte degli architetti che conosco poi gli architetti non lo fanno nella vita conosco architetti che fanno fotografo c'è chi conosco architetti che fanno i designer ci sono architetti che fanno i grafici architetti che sono negli ovunque insomma siamo dappertutto come gli zombie bisognerebbe chiedersi che cos'è un architetto veramente perché anche gli architetti amici miei e tuoi che fanno gli architetti ognuno lo fa in maniera diversa per cui c'è che architetto di multinazionali o di banche per cui il suo mestiere più che altro è mettere insieme una serie di complessità diciamo così burocratiche numeriche altri che progettano al computer altri che disegnano a mano libera altri che non sono mai andati in cantiere però fanno solo il disegno quindi è un afformamento diciamo ti costruisci in qualche modo una sorta di armatura un modo di vedere il mondo no degli occhiali no un po come questi qui che sono gli occhiali delle corbusie cioè è un modo per vedere il mondo molto spesso questo modo di vedere il mondo diventa fin troppo settoriale e per chi come me che appunto si occupa ormai da insomma il mio primo romanzo del 2004 quindi fai tu i conti sono 17 anni ecco ma da chi sei stato ispirato infatto la facoltà di architettura per cui sicuramente come l'ho fatta io per cui la creatività se hai seguito certi docenti diciamo ce l'abbiamo in tasca cioè ogni momento per noi è un momento per vedere il mondo diversamente ricostruirlo è un po questo il gioco ma chi è che ti ha influenzato di più in questa facoltà di architettura in via bonardi credo sì 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 la è la proprio quella di via bonardi ma quelli sono stati anni terribili da questo punto di vista perché io ho attraversato la facoltà di architettura dopo la grande scorpacciata in qualche modo degli anni settanta della 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 protesta dei dei corsi dove si facevano gli esami in 15 e uno solo parlava gli altri 14 prendevano il 30 politico cose di questo tipo in un momento di grande ritorno all'ordine quello degli anni ottanta in qualche modo subissato da una cappa pesantissima del che io chiamo del aldorossismo cioè aldorossi era una specie di dio in terra inviolabile intoccabile e che nessuno si poteva i portoghesiani i famosi portoghesiani però sì che nessuno poteva permettersi in qualche modo di criticare infatti una delle soddisfazioni che mi sono poi tolto di sassolino nella scarpa e che in un libro di qualche anno fa in metropoli per principianti dedico un capitolo dove demolisco l'idea di aldorossi no così come no ma vabbè poveretto io ti capisco benissimo perché ho fatto lo stesso percorso tuo anche per demolire questo post modernismo portoghesiano aldorossiano e basta per quanto fossero uomini conti sono i loro libri restano capitali però come architetti secondo me hanno fatto oppure come si diceva di michelangelo ti ricordo incorrotto padre di corrotti figli ecco tutti i loro tutta la loro pletora in qualche modo di studenti e poi i professionisti hanno costruito delle cose veramente che ci hanno fatto del male poca etica e molta estetica perché questo è stato il bilanciamento sì sì e insomma quindi sai dirti chi sono i maestri maestri sono sempre dell'idea che a un certo punto devi ucciderli come il padre il padre che io ho ucciso a suo tempo si chiamava Marco Dezzi Bardeschi che era un professore di restauro architettonico barone insomma dell'architettura che era capace di tenermi ore a fare aspettarlo fuori per avere un appuntamento per parlargli cinque minuti però era un uomo della cultura straordinaria al quale alla quale io mi sono abbeverato e aveva questa capacità di essere in qualche modo disassato rispetto il centro no e questa idea che si possa guardare fuori dall'asse squilibrato il mondo a me aveva aveva molto affascinato la cosa la soddisfazione che mi sono tolto poi negli anni che poi dopo lui è venuto a cercarmi chiedendomi di scrivere sulla sua rivista e allora io con una certa arroganza ho detto vai non c'ho tempo Marco quando no poi l'ho rivisto proprio pochi mesi prima che che morisse poveretto è stato molto molto affettuoso è stata una persona per me centrale importante però appunto i padri si uccidono è una cosa che che ho detto anche quando andai a trovare quando andai trovare Renzo Piano a Genova lui mi presentò i suoi studenti che adoravano ovviamente una personalità di stiamo parlando probabilmente dell'architetto più famoso al mondo e io ai questi ragazzi che venivano da tutto il mondo ho detto ricordatevi però che i maestri bisogna cucinarseli e mangiarseli come dice Pierpaolo Pasolini in uccellacci uccellini alla fine loro cosa fanno il corvo se lo mangiano no cioè il corvo che parla e dice continuamente cose in un certo punto deve anche tacere per dare spazio agli altri quindi così ho attraversato l'università e poi quando ho iniziato a scrivere ho pensato che era finita per me questo questo mondo dell'architettura e mai come quando ho smesso di fare tecnicamente l'architetto ho iniziato a interessarmi di architettura in maniera sempre più radicale a scrivere a scrivere anche nei miei romanzi vedo che stai mandando le copertine dei miei libri dei miei romanzi ecco senti a proposito stai parlando di 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 assassinare praticamente il proprio il proprio padre sì sì io tra l'altro il presidente della commissione di laurea era proprio del gimbardeschi con litigato durante la commissione di laurea però a parte questo lo ricordo con molta simpatia ecco questa metafora no questa metafora del l'abbiamo vista anche nel libro che è appena passato no di il sapore il sapore del santo esatto questa metafora dell'assassinio in qualche modo bisogna ammastare i padri rimane anche nella metafora dei tuoi racconti in qualche modo c'è sempre una trama gialla attorno ai tuoi personaggi che sono poi tutto periferici devo dire un'altra cosa prima di 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 farti parlare di questo mi sembra che hai stai spostando l'attenzione di quella che era la Milano dal bere la Milano appunto degli anni 80 magari tanto odiata da qualcuno di noi questo è veramente fa di te il simbolo quando dicevo il simbolo della nuova Milano mi sembra quanto meno doveroso sei riuscito a spostare il pallino almeno per una parte di 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 gente che guarda il nostro territorio da un'altra parte rispetto ai famosi terrazzi martini degli aperitivi e delle Milano della Borsa degli Uppis no cioè sei andato da un'altra parte questo mi sembra un'operazione beh ci sono andato per ragioni innanzitutto autobiografiche cioè io quel mondo non mi appartiene non è il mio mondo non c'è niente da fare io vengo da da un quartiere che poi è stato raccontato fin dal mio primo romanzo che è quarto giaro che in qualche modo le pin cioè è la quando uno dice di quarto giaro quando io dico che vengo da quarto giaro la gente subito controlla i portafogli convinto che stia pronto a scipparglielo insomma no ed essere cresciuto in un quartiere del genere con tutti i pregiudizi che c'erano nei confronti di quel quartiere insomma in qualche modo nel bene o nel male ti forma e quella quel mondo lì è il mio mondo io non ho fatto nient'altro da questo punto di vista sono uno scrittore molto stupido eh cioè io racconto cose che che ho incontrato che ho conosciuto che ho vissuto ehm e a me è sembrato naturale quando ho scritto il primo romanzo che che era per cosa si uccide ambientarlo in quel quartiere tu pensa la cosa su surreale io mi sono inventato il commissariato di polizia di quarto giaro perché non esisteva all'epoca no però la realtà che si adegua sempre alla fantasia quattro mesi dopo che è uscito il mio primo romanzo per cosa si uccide hanno inaugurato il commissariato di polizia a quarto giaro no quindi pensa che ormai io scrivo le cose le cose accadono è una cosa abbastanza spaventosa ovviamente questa è la parte comica e divertente però si hai ragione l'idea di mettere al centro delle mie narrazioni la periferia è forse una delle poche scelte eh politiche ideologiche no di tutto quello che io scrivo l'altra ad esempio che nei miei romanzi non c'è mai piazza del duomo cioè il duomo non viene mai raccontato il duomo non mi ha fatto niente poverino io voglio un gran bene un capolavoro dell'umanità e figuriamoci chi non vuole bene al duomo di milano però questa idea centripeta no di vedere sempre milano guardando il a piazza del duomo è un'idea che ora che la città non è più una città ma è una metropoli policentrica noi dobbiamo in qualche modo invertire io dico sempre dobbiamo dare le spalle al duomo no e guardare in maniera centrifuga verso un territorio che è ormai smisurato pensare che milano sia il duomo brera eh che sia il castello non ci hanno fatto niente li vogliamo tutti bene fanno parte di un pezzo della nostra identità ma non è tutta la nostra identità la mia identità è cresciuta appunto in quartieri popolari proletari sotto proletari è il mondo che io cerco di raccontare da appunto dal 2004 dal primo romanzo è questo mondo qui di gente che arriva penultimo se non ultimo direttamente questo senza farne una questione come dire questo è quello che io so raccontare poi ad esempio qui nell'impianto delle sirene ho raccontato anche il mondo dell'alta moda ho raccontato sto topografando mettiamola così di romanzo in romanzo sto topografando tutta la città ecco senti Gianni mi sembra che un po' riprendi la tradizione che era iniziata poi nel 51 con quel famoso film che si chiamava miracolo a milano no l'attenzione arriva in piazza duomo nella parte finale con una soluzione addirittura magica no cioè tu non lo sai ma sei da questo punto di vista sei micidiale ma oltre che miracolo a milano uno dei miei film come dire dell'anima ma io in questo momento sto proprio lavorando su un'antologia su miracolo a milano cioè lo sto chiamando studiosi gente di cinema di letteratura di musica di architettura per fare un libro omaggio a miracolo a milano che vorrei uscisse entro la fine dell'anno perché è quello un film capitale sono passati 70 anni ed è uno di quei non so dieci film della cinematografia italiana conosciuto in tutto il mondo con tanto di milano nel titolo questo vuol dire che questa città è in giro per il mondo grazie anche a quel film ed è un questo momento secondo me dovremmo chiederci quel miracolo che cos'è oggi il nuovo miracolo esiste un nuovo miracolo a milano non lo so che cosa significa pensa quello era un mondo dove si parlava anche di del dopoguerra di un di una realtà di carenza abitativa dei barboni dei poveracci degli ultimi chi sono oggi gli ultimi qual è la carenza abitativa oggi quali sono i problemi no di questa milano che da una parte svetta con tutti i suoi grattacieli incredibile meravigliosi ma dall'altra uno si chiede anche e poi no che cosa ci sta attorno chi sono i dimenticati chi ce li racconta e io credo di essere uno di quelli che si è dedicato a fare proprio questo ecco senti una milano che allora aveva ancora dei cittadini milanesi o perlomeno come diceva il corriere della sera negli anni fine anni settanta cinque generazioni le cinque generazioni per fare un milanese ci volevano ed erano cinque generazioni oggi nel 2015 è uscita un'altra statistica si è milanesi dopo due generazioni scusa questa è anche un po' una piccola mitologia no cioè questa cosa della rius no cioè ora io quando trovo un milanese che ha tutti e quattro i nonni nati a milano chiamo il WWF e dico ragazzi ne ho trovato un altro no salviamolo d'altronde io faccio un biondillo di cognome non cazzaniga o brandini esattamente volevo dirti proprio questo allora siamo una città di grande mobilità qualcuno dice che eravamo le persone che erano presenti a milano ancora negli anni 90 non sono più del 50 per cento per cui una una un flusso incredibile di mobilità in questa città ma questa è la forza è la forza della forza della città la forza di milano guarda ma fin dai tempi di bonvesin della riva eh cioè fin dal medioevo metà degli abitanti milano non era nata a milano se tu vai torni indietro nel tempo persino i borromeo hanno origini che sono extra milanesi gli scorti i visconti arrivano tutti da tutti vengono tutti da altre parti insomma ed è la natura di questa città una la più antica tradizione di milano è quella di cambiare continuamente pelle è quella di trasformarsi di di essere sempre qualcos'altro la sua dinamicità e la sua forza anche subito degli shock di una violenza se ci pensi sconvolgente la seconda guerra mondiale credo sia stata la città più devastata d'italia però poi se non bastavano i cantieri del come dire della ricostruzione ci pensavamo noi a demolire a ricostruire tutto il novecento è stato il secolo dei cantieri per milano il cantiere della galleria i cantieri della metropolitana no cioè i nuovi cantieri che abbiamo visto tu pensa che berlino è stato il più grande cantiere d'europa degli anni 80 90 no tutti andavamo a berlino a vedere che cosa stavano combinando e non ci siamo resi conto che milano è stato il più grande cantiere d'europa degli ultimi dieci anni io ho un amico carissimo milanese che però vive a roma per lavoro che io prendo in giro dicendo vai a roma rubare il lavoro ai romani che torna che è tornato dopo molti anni a farmi visita a milano l'anno scorso prima della pandemia mi telefona dicendomi non so dove sono mi sono perso io che sono milanese mi sono perso perché perché la città è cambiata con una tale incredibile virulenza che ci sono dei posti che prima non esistevano e ora hanno cambiato ancora una volta l'identità di questa città pensa alla polemica che è stata fatta a torino per la costruzione del grattacielo di di renzopiano non sembra una lesa maestà che poveretto è un grattacielo anche dignitosissimo molto serio non lontano dalla mole antonegliana non disturba nessuno e ne hanno fatto un per mesi una questione qua abbiamo costruito anche delle pacchianate pazzesche però il fatto che fossero altissime che sembrasse di stare a dubai o a vancouver ci ha esaltato tutti io vedevo le persone anziani i classici umarelli no che andavano a vedere il cantiere del grattacielo di piazza gaolenti tutti contenti vecchi signori che parlavano in milanese fra di loro orgogliosi che la loro città no sembrasse sempre più europea grazie a quei grattacieli ecco però una città piena di contraddizioni stiamo parlando di cantiere che non appartengono agli italiani ormai sono tutti di proprietà ad esempio ovvio multinazionale quindi anche questo ovviamente si parla magari milanese tra i vecchietti o si ricorda ecco per esempio mi fai ricordare un film che da ragazzo ho visto moltissimo che si chiamava eccezionale veramente perché mi sbellicavo dalle risate no e questo film di diego abbastantuono terminava con una frase che poi è rimasta topica cioè si ringrazia la regione puglia per aver fornito i milanesi credo che questa attitudine sia registrata anche in questi film che allora erano di secondo piano però di fatto come quelli di totò hanno poi formato la cultura di una generazione no certo ma anche l'idea l'idea che abbiamo di questa città passa anche dal pop il pop non bisogna denigrare il pop bisogna sapergli dare la giusta dimensione no e sì dobbiamo ringraziare la regione puglia io nel quartiere dove appunto abitavo prima a quarto giaro andavo sul balcone di casa mia ed era un cortile babelico dove sentivi parlare tutti i dialetti d'italia e ovviamente quelli di cerignola erano i più i più presenti però potevi sentire siciliano io sono figlio di una siciliana di un campano per dirti sentimi tutti i dialetti d'italia moltissimi veneti ma d'altronde adesso dove abito ora non abito più a quarto giaro abito in via padova cioè non è fatto grande salto di qualità ma in realtà sto scherzando perché stavo benissimo lì sto benissimo qui e questa è una strada che da sempre è stata una porta d'ingresso di tutte le immigrazioni agli inizi del novecento venivano dalla bergamasca dalla bresciana dal piacentino poi nel secondo dopoguerra sono arrivati dal meridione adesso vengono da tutto il mondo è la natura di questa città a me non fa paura non ho mai avuto paura di queste cose perché appartiene a questo modo di essere nel mio cortile ci sono persone che vengono dallo Sri Lanka che vengono da Cuba che vengono dal Maghreb ci siamo noi c'è di tutto insomma diciamo che questa norma è una norma milanese ma poco norma per quanto riguarda la parte periurbana di Milano cioè il contorno di Milano è un po' più chiuso un po' più contrario a certe aperture mi è sembrato in questi anni perlomeno ma sai c'è un tentativo di in qualche modo di bloccare il sistema identitario no c'è questa idea che io mi devo riconoscere in un quadro fisso immobile bloccato eternamente uguale a se stesso che però insomma già dalla metafora della nave di Teseo no sappiamo che la nave si muoveva e di volta in volta cambiano il fasciame le assi eccetera la nave che è partita non ha più un asse di quella che è arrivata e ancora la nave di Teseo quella lì in realtà noi siamo in continua trasformazione e gli stessi abitanti della provincia che sono tendenzialmente sempre più restia il cambiamento sono anche quelli in qualche modo più legati strettamente affezionati al territorio sono molto diversi da come erano i loro genitori i loro nonni e i loro bisnonni cioè se volessimo assomigliare a quello che eravamo una volta non dovremmo neanche avere i bagni in casa ma chi di noi oggi vorrebbe stare senza un bagno in casa il mondo cambia il mondo cambia ovviamente la trasformazione va guidata va guidata nel migliore dei modi e negli ultimi trent'anni quello che noi abbiamo fatto invece è alimentare la paura alimentare l'idea che il diverso è il portatore della appunto della paura rendere terrificante la diversità dato che io ero il diverso quando ero bambino perché ero figlio di meridionali mi viene da ridere che adesso gli stessi meridionali che abitano magari a Milano se la prendono con i nuovi immigrati che stanno rivivendo le stesse identiche situazioni di quando di Rocco e i suoi fratelli Gianni ma senti parli anche nel tuo libro parlo di questo libro si chiama Lessico metropolitano in questo libro appunto di Lessico parli anche di grandi autori della canzone napoletana stiamo parlando di lui facciamoli vedere tu lo fai vedere meglio ok Lessico metropolitano ok e qui addirittura indaghi anche sulla canzone Mina, Pavarotti, Dalla anche su questo modo di cantare napoletano dove si fa brutte figure questa ricerca assoluta di costruire anche un'Italia di valori di linguaggi che spesso è difficile da raggiungere anche questi sono dei tentativi e Milano forse qualche volta ci è anche riuscita qualche volta se tu fai riferimento a un capitolo dove io parlo di Napoli perché nel Lessico metropolitano ci sono tre capitoli uno su Milano uno su Roma e una su Napoli sulle tre grandi città insomma di questa nazione e ovviamente le inevitabili differenze fra le tre città e c'è un momento in cui appunto poi io trovo che Napoli abbia molte più somiglianze a Milano di quanto i milanesi stessi vogliono ammettere però appunto la grandezza di Napoli sta nel fatto che ha una sua fa parte dell'immaginario mondiale globale molto ma molto di più di Milano cioè questa è una cosa che noi forse non vogliamo accettare noi milanesi però Napoli veramente è una città che appartiene alla cultura del mondo ma ha una sua un suo percorso naturale una sua storia una sua indipendenza culturale fortissima ancora oggi hanno la loro letteratura hanno un loro cinema hanno un loro teatro hanno una loro canzone è una loro musica appunto perché la musica promuove moltissimo le città no? però l'idea di sentire il come dire il gondoliero a Venezia che ti canta O sole mio che a noi sembra molto trash però succedeva anche agli inizi del novecento cioè mi ricordo ne parla anche Proust che va a Venezia e il gondoliero gli cantava O sole mio cioè questa intersecare in qualche modo della cultura napoletana con la cultura italiana che sono uno potrebbe dire un po' la stessa cosa sì da un certo punto di vista sì perché sono anche i fautori dei più grandi luoghi comuni degli italiani nel mondo cioè nel mondo quando pensano l'Italia pensano appunto a questa cosa qui la mozzarella la pizza il mandolino e tutte queste cose però Napoli è una cosa molto più seria e molto più profonda è quello che cerco anche di raccontare raccontare in questo libro che è un libro che non è su Milano anche se Milano ha grandissimo spazio inevitabilmente perché essendo la mia città ma è un libro dove si va anche a Como e si va a Matera e si va a Roma e si va a Napoli ma io vorrei provocarti proprio su questo cioè parli di lessico metropolitano una città devo dire poliglotta Napoli perché lo è indubbiamente tanto quanto Milano solo che quando vai a Napoli c'è ancora il lessico napoletano c'è ancora la calama napoletana e a Milano invece no cambia cambia se guardiamo anche soltanto i film di come si parla la cadenza milanese negli anni 70 60 noi abbiamo un altro Milano anche nel lessico ma sai lì il problema anche del cinema italiano quindi qui apri una parentesi chissà se la chiudo o se la apro perché il cinema il cinema italiano a un certo punto da Mussolini in poi è stato trasferito d'imperio a Roma e se ci pensi il cinema italiano non racconta l'Italia il cinema italiano racconta Roma racconta Roma con intersezioni napoletane perché Napoli è a due ore da Roma e quindi puoi girare a Napoli e poi montare e fare le pellicole e tutto quanto a Cinecittà e allora abbiamo un'Italia che è fatta per luoghi comuni cioè il Veneto sembra sempre ubriaco il romagnolo sembra sempre gaudente e non so l'abruzzese sembra sempre un contadino un po' tamugno cioè è ancora la commedia dell'arte ma se ci pensi il 90% di ciò che viene girato in Italia si gira o a Roma oppure in un'ipotetica a Pennino dove non c'è un capannone ma sono tutti insomma ci sono preti che indagano cose di questo tipo cioè è tutto abbastanza ridicolo e deprimente io mi ricordo aver visto la fiction dedicata a come si chiama a De André che è stata una cosa che mi ha fatto venire i brigli perché l'attore parlava con una cadenza romana cioè l'attore che faceva De André non se ne rendeva conto ma parlava con una cadenza romana chiunque ha sentito parlare De André aveva una cadenza genovese senza non si poteva non pensare che non fosse genovese De André ma loro non se ne sono resi conto perché a furia di di girare e fare tutto fra di loro sai come come quelli che a furia di copulare fra di loro fanno figli deformi e un po' il cinema il cinema romano è questa cosa qui è come il gladiatore col cartier siamo sempre lì sì siamo al generale romano senti ma in questo lessico metropolitano tu parli anche di design parli di note aziende facciamo pubblicità alla B&B per esempio Banca e Busnelli che pochi sanno però sai a Milano nel mondo anche io girando facendo conferenze quando si parla di Milano negli ultimi anni gli si dà un pochino la colpa forse ce l'eravamo già anche detto un po' la città che consuma consuma veloce il territorio consuma veloce oggetti di design è diventato anche un po' il simbolo di questo questa città oggi chiaramente questa situazione è messa in crisi perché siamo in un'epoca un po' particolare ma questa è medesimazione col design che era quello del mobile perché in realtà il design ha uno spetro di progetto molto più ampio noi siamo stati anche capaci a portarlo su un settore ben specifico magari scordandoci altre capacità ecco tu pensi che questa immagine di questa Milano del design andrà avanti ancora perché sei architetto cioè la porteremo avanti ancora e diversamente nel mondo è una narrazione che ci siamo fatti che è stata vincente perché in effetti oggettivamente diciamo dal secondo dopoguerra noi abbiamo incorporato dentro l'oggetto di uso quotidiano una qualità artistica no? che prima magari non esisteva in questo senso mettiamola così abbiamo avuto dei veri precursori io racconto c'è un lungo capitolo dedicato alla lampada d'arco dei fratelli Castiglioni dove spiego in qualche modo perché è un classico in tutti i sensi perché è presente in moltissimi film di Hollywood insieme alla Tolomeo di De Lucchi che è ovunque non se ne può più la vedo ce l'ho persino in casa anch'io perché è anche un bel oggetto nessuno lo mette in dubbio quindi quella narrazione lì che è stata te la faccio vedere è inevitabile abbiamo in effetti prodotto una scuola e questo non lo metto in dubbio su questa scuola forse ci siamo un po' adagiati all'idea che siamo la città dell'alta moda la città del design e quella dell'opera lirica della scala di Milano questo racconto in qualche modo è consolatorio e ovviamente oggi in un momento in cui fra cambiamenti climatici e problemi in qualche modo di smaltimento della spazzatura perché noi produciamo qualche volta che produciamo cosa produciamo spazzatura se non si pensa al ciclo se non si progetta non soltanto la lampada ma anche cosa succederà quando la lampada smetterà di essere la lampada ragazzi sono problemi veri è uno degli argomenti che in qualche modo tocco anche nel libro io credo che questa narrazione ancora una generazione potrà resistere ma poi non è che il resto del mondo è fatto di stupidi e noi siamo i geni cioè togliamocelo dalla testa quando il cinese avrà capito come si fa lo fa e i cinesi quando capiscono capiscono cioè non sono non imitano comprendono sono un popolo pazzesco io ho mangiato una pizza napoletana fatta da un cinese che era più buona di quelle che ho mangiato a Napoli insomma cioè lo sanno fare quindi noi adesso stiamo esportando magari tutto questo sapere e la cosa che più mi fa paura è che non abbiamo più rispetto per quella cosa che io chiamo che è l'intelligenza delle mani cioè la grandezza dell'Italia è stata che abbiamo sempre avuto degli artigiani una manifattura pazzesca e non abbiamo fatto di questa manifattura la nostra vera ricchezza noi abbiamo voluto mandare i nostri figli a scuola perché non dovevano più usare le mani senza aver capito che era proprio usare le mani la nostra forza che ci faceva umani per questo è un discorso lungo complesso e molto affascinante in una Milano che oramai come dicono tutte le statistiche è in mano a un grosso gruppo internazionale di finanza che si chiama Andrangheta che oramai fa rapporti con tutte le banche e con tutto il mondo ecco i tuoi personali della periferia che sono ah sì mi costano però in fondo sono come dire i residui di quella di quella di quell'economia globale sono la ricaduta a terra in fondo poi quando ti ricordi quando un po' di anni fa la ex sindaca di Milano disse no ma la mafia non appartiene alla cultura milanese io ero morto dalle risate perché la mafia investe a Milano dagli anni 50 insomma raccoglie il denaro in quei territori del sud Italia ma poi lo investe qui ma è inevitabile perché loro sono menti criminali raffinatissime insomma dove ci sono i soldi attirano soldi insomma la borsa di Milano attira quel denaro lì l'economia globale è un'economia anche criminale e noi siamo un pezzettino di questo paesaggio criminale ecco a vedere i personaggi che hanno fatto carriera negli ultimi 20-30 anni in Parlamento in Europa con dei titoli anche da politici sembra che il boom economico l'abbiamo fatto grazie anche a loro e a quelle banche e a quei procedimenti per cui tocchiamo argomenti che sono abbastanza delicati magari in una Milano quella parte che non vorremmo sentire che però c'è che però c'è e allora sai quando tu il nervo lo devi mostrare scoperto devi mostrare la ferita come diceva Joseph Beuys cioè l'artista fa questo mostra la ferita è doloroso è doloroso però c'è la ferita c'è ecco visto che è arrivato Giorgio perché infatti sono fermato perché ho visto Giorgio ho detto oddio adesso arriva sono i famosi segreti di Pulcinella che tutti conoscono e per quando lo dici ah esiste davvero ma allora invece il discorso è veramente molto interessante e ce ne sarebbe da dire di tutte e di più basta vedere anche nel microcosmo della galleria Vittorio Emanuele circa una quindicina d'anni fa forse 20 avevano chiuso un bar che era mi sembra l'Ottagono che era dove adesso c'è Prada l'avevano chiuso proprio perché dicevano che giravano i soldi sporchi come se avessero risolto il problema però il noto giornale dell'economia dice che circa il 70% della distribuzione alimentare a Milano compresa la ristorazione è in mano all'andrangheta oramai questa è un'indagine di due anni fa quindi alla fine qualcuno ci sta guardando del resto i soldi sono lì ma mi viene in mente una scena di un telefilm uno di quelli che ci sono su Amazon che c'era che è girato in questa New York anni 20 30 c'era questo bordello di ragazzini che si prostituiva e allora venivano chiamati due boss che erano amici ovviamente di tantissimi polizzotti ma vengono chiamati dal nuovo sceriffo e praticamente gli dice devi chiudere lui fa sì non c'è problema chiudiamo e praticamente accompagnati dalla polizia hanno chiuso al numero 12 hanno aperto al numero 6 della stessa via quindi il problema si sposta sempre di poco invece no mi incuriosiva un po' questo intanto questa affascinazione anche dal punto di vista dei titoli dei tuoi libri che ho fatto scorrere sulla morte sull'uccisione a questo punto sarcasticamente ti chiedo ma chi vorrai che prenderà senza ucciderti ovviamente fisicamente ma artisticamente da scrittore il tuo posto tra una trentina d'anni ah no guarda io su questo facciamo morire gli altri no guarda io non ho io so che sopravviverò alla mia opera cioè normalmente gli artisti sono sempre lì no io morirò ma la mia opera resterà eterna no no guarda io morirò vecchio e dimenticato però vecchio almeno questo non ho manie non pretendo che i miei nipoti fra due generazioni leggano sull'antologia scolastica che palle sto biondillo cioè non ho questa ossessione io vivo quotidianamente faccio le mie cose sono stato a vent'anni facevo suonavo fra i trenta e i quaranta facevo l'architetto ora ne ho cinquanta faccio lo scrittore non so se a sessanta farò il ballerino classico il cacciatore di squali cioè io vivo no quello che mi succede succede non ho manie non voglio mezzi busti o targhe sulle strade con il mio nome non me ne frega niente insomma poi da morto neanche potrò godermela questa cosa quindi chi se ne frega ovviamente comunque è molto bella anche la risposta ovviamente belli temi trattati andrebbero molto approfonditi sono anche molto curioso la tua opinione sul grattacielo menzionato di Renzo Piano a Torino l'ho detto prima in realtà è un edificio molto ben educato tra l'altro Renzo Piano secondo me negli anni sta imparando a costruire sempre meglio cioè prima era molto più cacciarone in qualche maniera lì ha avuto anche un suo io sono andato a vedermelo proprio perché ero curioso di vedere il prodotto finito date tutte quelle polemiche e ha una sua ma poi Renzo non sbaglia mai cioè lui sa gestire il particolare come poche persone non è un architetto che inventa delle soluzioni spaziali particolarissime non è di quel tipo di architetto lui è come dire uno che sa però aggregare i pezzi con una qualità che non sbaglia è molto in tema con i cittadini con gli abitanti di Torino che ha fatto questa discocrazia è molto sabaudo da questo punto di vista vorrei dire una cosa posso dire una cosa su questo grattacielo intanto lui è stato così rispettoso che ha preso come ispirazione un grattacielo che c'è in via Ciarnaia lì vicino che è il grattacielo della Rai e che in questo momento non è più in uso la polemica della città è nata per altri motivi che quel grattacielo è stato imposto non dal comune ma di chi è proprietario di quella banca e dalla parte milanese perché da quanto ne so io è stato imposto ai torinesi o fatto il grattacielo o lo facciamo a Milano e quindi con grande spostamento della sede del San Paolo queste sono le cose che io ricordo però vedi come siamo ancora siamo ancora un po' piccolini un po' provinciali ma che problema è intendo dire è un atto come dire di arroganza bancaria ma le banche sono arroganti non capisco dove sia il problema pensate se l'avessero dato in mano a chissà quale altro progettista cosa avrebbe chissà quale deiezione avrebbero messo lì in mezzo a Torino è difficile sai perché gli architetti entrano col contagocce un po' anche la ricostruzione della Torino anche nelle periferie fatta da architetti francesi attetti a certi circosti discorsi Fuxas c'è entrato ma anche con molte polemiche poi per esempio l'altro grattacielo di Fuxas oggi è sotto il mirino quindi ogni città quando costruivano la galleria Vittorio Emanuele alla fine dell'ottocento le polemiche furono infinite penso che fu inaugurata tre volte addirittura e si racconta addirittura che l'architetto si suicidò perché non ne poteva più non è vero era caduto dall'impalcatura però arrivò a dire che cadde dall'impalcatura perché non ne poteva più di tutte le polemiche e anche le banche inglesi e le banche inglesi bravo scandali finanziari bustarelle sindaci arrestati tutto proprio il classico tutto il mondo italiano per oggi che cos'è? è il salotto di Milano è il salotto di Milano e dei milanesi ma è sempre così Milano è una città molto critica basta ma qualsiasi cosa basta pensare anche l'opera in in piazza Belgioioso davanti alla borsa di un artista impronunciabile ma va bene lo stesso quindi voglio dire si lamentano tutti e poi alla fine diventano dei singoli fra 50 anni i torinesi si andranno a vedere il grattacielo di Renzo Piano orgogliosissimi del loro che anzi diventerà un luogo di identità per i sabaudi capisci? comunque Giorgio ha fatto una bella dichiarazione di oh mia bella madunina tutti si lamentano poi vengono tutti qui a Milano ma sì ma poi è vero il bello è il bello di noi milanesi forse l'unica cosa di che non si sono mai lamentati o non abbiamo memorie così antiche perché sono sette secoli e del Duomo di Milano ecco anche su quello ci è stato da ridire sempre sempre le porte le porte le porte del Pogliaghi i quali progetti che non andavano bene il campanile che non c'è tutte le polemiche sulla facciata del Duomo polemiche sempre però poi alla fine si fa perché come sai fai disfale sempre un laurà no? ci sono collegati tantissimi amici della social tv voglio salutare che è stata anche nostra ospite tua fortunato la Bianca Garavelli la Silvia Capiluppi Riccardo Mereu che salutano ascolta volevo una tua opinione visto che sei così sul pezzo del nuovo centro fieristico milanese o comunque di quello che è sorto rispetto a quello che c'era stai parlando quello di 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 ron sto parlando vabbè quello di ron l'hanno un po' dimenticato nel senso che sembra dovessero fare praticamente la città universitaria la città della medicina la città di questo la città di quello l'hanno mollato lì e quello più in centro fiera milano ma quello a quello che ancora è rimasto city life no no city life ah ok stai parlando dei tre grattacieli di city life che io chiamo i triciuc cioè che sono i due amici che tengono il terzo che sta per vomitare adesso arriva la ciliegina sulla torta lì vicino c'è il nuovo progetto firmato boere questo studio new yorkese no quella è un'altra cosa ancora attenzione che stai confondendo nel chiorre gioia vabbè ho capito nel chiorre gioia vabbè ma tutto Gaia Olenti insomma i nuovi grattacieli di Milano da Gaia Olenti fa parte di quella lo racconto facciamolo rivedere perché di libri che stiamo parlando facciamolo rivedere ma che libraio sei scusami ma io non lo so ma vergognati dovresti farlo tu quello che sto facendo ne parlo appunto in metropoli e scusami in lessico metropolitano di tutta questa di questa smania di costruire continuamente Milano anche se poi molto spesso si costruiscono cose un po' insomma non esattamente eccolo qua eccolo qua ma poi ti copro belle dal punto di vista strettamente architettonico però sai quello ci interessa veramente poco perché noi milanesi siamo strani cioè a noi basta che ci siamo basta che siamo nella volata cioè che se si corre in bicicletta noi dobbiamo essere nel gruppo magari non proprio in testa no? non siamo noi ci vogliamo confrontare con Londra con Parigi con Berlino ma quelli sono capitali noi non lo siamo ma istintivamente no ci piacerebbe un po' esserlo mettiamola così e quindi siamo con i vicini vicini all'Europa certo basta essere lì no? senti Gianni ma l'ispettore Ferraro che lago il filo un po' come in piazza Gaulenti di tutte le tue trame che personaggio è? che personaggio è? che personaggio milanese è questo ispettore Ferraro? beh è la persona che quando non so sali sull'autobus e gli pesti un call poi scendi te lo sei già dimenticato cioè non è il super poliziotto non è il genio della come dire elementi criminali non è è uno che timbra il cartellino sostanzialmente che fa il suo mestiere poteva farne un altro la vita gli ha fatto fare questo sono altri quelli più geniali all'interno del commissariato che mi sono inventato come dicevo a Quattogiaro che invece adesso esiste è uno che è un ministeriale è uno che timbra il cartellino sostanzialmente però lo fa e il suo lavoro lo fa perché il naso anche se non vuole ammetterlo ce l'ha il fiuto ce l'ha e un po' per fortuna un po' per abilità arriva insomma alla fine del suo cioè io prometto da scrittore che tu verrai intrattenuto e che alla fine scoprirai come va a finire non sempre va a finire bene perché poi nella vita non sempre le cose vanno a finire c'è gente che mi ha scritto arrabbiatissimi dicendomi ah ma lì però non finisce bene perché il criminale non viene arrestato guarda che nella vita purtroppo è molto più facile che il criminale non venga arrestato piuttosto che venga arrestato e che vadano in Parlamento giusto ecco ecco tra l'altro quindi è questa roba qui io sono molto affezionato a Michele Ferraro cioè ormai uno di casa io a Natale metto sempre un piatto spero che venga a trovarmi io sono ma come nasce questo nome scusa Michele Ferraro da dove ti è venuto fuori questa copia ma io cercavo il cognome più anonimo possibile che non fosse rossi o bianchi che era troppo sputtanata no come era troppo evidente e avevo scoperto che tutta la categoria dei Ferraro Ferrante Ferrari sono il gruppo dei cognomi più diffusi in Italia no e Michele in realtà ha un omaggio a mio padre che non c'è più che appunto si chiamava Michele quindi da qui è nato Michele Ferraro io pensavo per Ferrante a Porti pensavo che tu avessi no 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 niente tutto questo poi nel paese d'origine di mio padre ho scoperto ma non lo sapevo cioè ci sono passato centomila volte che esiste una piazza a Ferraro e quindi tra l'altro una volta una volta mi telefonò l'ispettore Ferraro cioè uno che si chiama è veramente un ispettore di polizia e ho detto oddio il mio personaggio esiste per davvero no è stato abbastanza divertente però sai io dicevo sono molto affezionato a Michele a Ferraro però sono un pessimo scrittore di gialli perché non ne faccio uno ogni sei mesi come fanno tutti i miei come dire colleghi io ne faccio uno ogni due tre quattro anni addirittura il che fa molto arrabbiare i miei lettori perché poi nel frattempo scrivo libri di viaggi fiabe per bambini romanzi storici con Antonio Santelia come protagonista saggi di architettura e questo fa molto arrabbiare il mio lettore e seriale che vorrebbe che invece ogni volta ogni sei mesi produca l'ennesimo giallo allora cerco di spiegare che io non sono furbo ma sono onesto sono scrittore onesto cioè scrivo il libro che in questo momento sento la necessità di scrivere magari il prossimo sarà un Ferraro ma sarà perché ho deciso che sia veramente un Ferraro e non perché ci sia una sorta di spinta di pressione per scriverlo mi viene una domanda ma pensi di aggiungere una postilla di quello che stiamo vivendo e questa è una grande questione sai durante durante il primo lockdown tutti mi dicevano ah che bello tu sei uno scrittore adesso sei chiuso in casa chissà cosa stai scrivendo no stai scrivendo il grande romanzo sul coronavirus e io dicevo no scusate ma questi sono morti veri cioè bisogna avere rispetto questa è una tragedia vera io ero come tutti voi davanti al televisore a vedere la conta dei morti io non ho praticamente quasi scritto nulla e ho letto molto di meno cioè per assurdo avevo in teoria più tempo a disposizione e non riuscivo persino a leggere poi per me scrivere significa uscire di casa camminare incontrare gente fare e tutta questa roba qui mi è stata esclusa mi sono sentito mi sono sentito in qualche modo nei carceri domiciliari insomma i domiciliari c'è un capitolo in lessico metropolitano che è una delle poche cose che sono state scritte il libro doveva uscire prima e non è uscito per le ragioni appunto della pandemia e ho aggiunto questo capitolo che è iniziare a pensare la città post pandemica in qualche modo no di fronte a questa a questa realtà che ci ha negato uno spazio che pensavamo scontato quello dello spazio pubblico no del marciapiede della piazza e allora quello è stato per me centrale fondamentale scrivere oggi in questo momento di pandemia di coronavirus mi sembra da sciacalli c'è chi lo fa e fortunato loro che riescono a farlo io non dico che li invidio ma li rispetto e non li sto giudicando io non ce la faccio no no ma la domanda non è a scrivere solo della pandemia pensi che in futuro nel in qualche racconto di Michele inserirai anche quello che viviamo capiterà capiterà per ma bisogna sapere avere la forza e saperci mettere anche un minimo di distanza guarda che se ci pensi cioè tutti quelli che hanno scritto dalla peste di Camus ai promessi sposi è tutta gente che la peste non è mica l'ha vissuta cioè c'è stato del tempo in mezzo c'è stata una distanza no che ti permette anche di mettere più a fuoco magari quello che in questo momento stai vivendo e non è detto che lo stai capendo per davvero esatto mi sembra un'ottima osservazione caro Fortunato e altre domande per il tuo ospite beh io ne avrei moltissime ma gliele faccio ancora in un'altra sede perché stiamo sforando il tempo e poi siamo oltre il 51 ma è un piacere sentirlo parlare quindi sono passati 5 io se mettevo anche le immagini non la finivamo più non finivamo più qualche immagine l'ho messa perché è un libro che comunque la libreria bocca non ha perché è una libreria da 40 anni specializzata in arte però va bene questa è architettura scusami ma ne teniamo pittura e monografie di artisti basta perché è piccolina mi spiace va bene però in questo caso si può fare un'eccezione guarda che bella abbiamo fatto l'eccezione tutti i libri presenti nella social tv quando poi amplierò la libreria mettendo i tavoli fuori in galleria mi li metto direttamente nel salotto dei milanesi allora se non la trovate nella libreria bocca cercatela nelle migliori librerie di casa vostra mi sembra io lo dico sempre nelle librerie poi va bene c'è chi lo compra online però ma perché dobbiamo dare i soldi a un miliardario americano cioè diamoli ai librai i soldi ci sono tanti siti gestiti anche da italiani tipo l'insito che ho visto io prima i bs italiani i bs è roba nostra quindi va bene è roba nostra bisogna saper comprare è fortunato? dico che i libri sono importanti ho letto Gianni che sei stato formato da un libro che ho letto anch'io tantissimo anche perché è stato il mio professore si chiamava Battisti lui non era Lucio ma era Eugenio Battisti l'antirinascimento ecco io spero che i libri abbiano sempre questa forza di traghettarci nel passato nel presente e nel futuro ma perché al di là delle parole in questi libri c'è sempre qualcosa che va oltre quello che noi possiamo leggere della storia e io credo che anche i tuoi libri adesso ovviamente non li ho letti tutti ma anche soltanto studiando delle pagine a caso il racconto non racconta solo di Milano racconta anche di qualcosa d'oltre penso che questo sarà la possibilità di rimanere in vita anche dopo che non ci saremo bene grazie non so cosa dire grazie anche per il ricordo di Eugenio Battisti comunque grazie Gianni grazie fortunato una buona serata e noi con la social tv ci troviamo domani una buona serata a tutti è stato un piacere alla prossima grazie